salve amiche ed amici qui ancora una volta il vostro santen chan e in questa opportunità vi voglio continuare a parlare per l'angolo della mia rubrica letteraria per l'angolo letterario di un'opera del nostro autore ancora del nostro autore bhagavansri rainish la rivoluzione interiore è un'opera molto importante mi raccomando leggete la di questi tempi confusi in cui le persone si aggregano sempre più come moltitudini come greggi e bisogna avere riscoprire l'individualità il valore dell'individualità questo lo dico alla luce dei tanti fallimenti di rivoluzione di ogni tipo la rivoluzione delle religioni che continuano a fallire perché non offrono avere risposte alle aspettative della gente le rivoluzioni economiche che si vede come dal 2008 in poi con la bolla speculativa immobiliaria immobiliari a nord americana ci sta rovinando l'economia le rivoluzioni politiche da quelle più serie a quelle più amene italiane di tutti i partiti politici che non hanno risolto nulla adesso in italia si va alle elezioni in marzo e non succederà nulla di rivoluzionario non vi spaventate succederà sempre quello che è successo niente perché politici poi si rivelano tutti uguali allora la vera unica rivoluzione rimane la meditazione perché è una rivoluzione interiore infatti se proviamo a cambiare il mondo come hanno fatto i più grandi conquistatori alessandro magno giulio cesare gengis can carlo magno non riusciremo mai a dominare tutto il mondo il mondo ci dominerà a noi e non riusciremo mai a trasformare tutto il mondo con il tempo il mondo sempre trasformerà a noi quindi una rivoluzione che trasformi tutta la società o un ideale politico economico religioso che trasformi le masse non esiste purtroppo non esiste un'ideologia che trasformi le masse infatti un'ideologia non è nient'altro che un insieme di idee ognuno di noi può avere la sua ideologia senza aver bisogno di aderire all'ideologia di un altro invece l'unica forma per trasformare tutto e trasformare se stessi introspettivamente e si deve iniziare con la meditazione perché la meditazione è la prima e l'ultima cosa che ci potrà trasformare quindi per trasformare tutto bisogna trasformare se stessi che in fondo ognuno di noi è il centro del proprio universo se non ti trasformi è come se non è trasformato il mondo ma se tu trasformi la tua prospettiva del mondo le tue aspettative avrai trasformato tutto se tu trasformi la tua esperienza di vita avrai trasformato tutto se tu ti lasci trascinare da trasformazioni esterne per quanto buone che siano non trasformerai mai nulla non ti trasformerai cioè quindi con l'introspezione con la vita interiore che ti dà la meditazione e anche la lettura perché leggere aiuta a meditare sulle cose tu ti trasformi quindi mi raccomando leggete questo libro di baghavan sri reinish la rivoluzione interiore la psicologia dell'esoterico perché la psicologia in sé non basta a trasformare l'individuo deve essere accompagnata dalla meditazione edito dalle edizioni mediterranee adesso non so chi altri lo edita adesso vi devo salutare perché se no sforo i cinque minuti e l'applicazione è difficile poi che io riesca a dargli formato ciao arrivederci alla prossima grazie di seguirmi mi raccomando se questo video vi è piaciuto condividetelo e aiutate il mio canale a crescere